IMU e TASI, IVA e ritenute IRPEF. Sarà un vero e proprio lunedì nero il prossimo 17 giugno. Nel primo Tax Day dell'anno, che dovrebbe cadere oggi ma essendo sabato slitta a lunedì, imprese e famiglie dovranno infatti versare, nelle casse dello Stato, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, quasi 33 miliardi di euro. Iniziamo dagli imprenditori che dovranno versare al fisco le ritenute IRPEF dei dipendenti e dei collaboratori, per una cifra pari a circa 12 miliardi di euro, a seguire famiglie e imprese chiamate a pagare quasi 10 miliardi di euro per IMU e TASI sulle seconde e terze case e sugli immobili strumentali. Altri 10 miliardi circa per l'IVA usciranno dalle casse di industriali, commercianti, artigiani e lavoratori autonomi e poco meno di un altro miliardo infine arriverà allo Stato dalle ritenute IRPEF sui compensi dei lavoratori autonomi. In tutto quindi finirà nelle casse pubbliche la ragguardevole cifra di 32 miliardi e 600 milioni di euro. Una scadenza che famiglie e imprese affrontano con sempre maggiore preoccupazione per le crescenti difficoltà di accesso al credito, ma anche per la complessità del nostro sistema tributario. Una burocrazia fiscale che costa agli imprenditori circa 3 miliardi di euro l'anno e che, sempre secondo la CGA, a volte mette in sedia difficoltà anche CAF e commercialisti.